Voltiamo pagina e parliamo di una rassegna che gli amanti del cinema non potranno assolutamente perdersi. Fino al 7 febbraio nel teatro Sala Molière di Pozzuoli, in scena la quarta edizione di Cinemagma. Tante le novità quindi di questo anno e ne parliamo oggi proprio con il nostro ospite. Il buongiorno allo storico del cinema, Giuseppe Borrone. Buongiorno. Buongiorno. Quindi ha preso il via nella cornice del teatro Sala Molière di Pozzuoli, diretto da Nando Paone, la quarta edizione di Cinemagma. Una rassegna che è ispirata all'elemento naturale, simbolo quindi di Pozzuoli e di una terra vulcanica come i Campi Flegrei. Sì, è stato un po' un azzardo, soprattutto quest'anno con la crisi bradisismica in atto, organizzare una rassegna dal titolo Cinemagma. Ma d'altra parte noi ci conviviamo da sempre nei Campi Flegrei con questo elemento che, come diceva lei, è un po' la caratteristica del nostro territorio. Ovviamente il magma è un po' una metafora di un qualcosa che scorre nel sottosuolo, si fa fatica a riconoscerlo. Un po' come la carriera di questi giovani autori dei cortometraggi che presentiamo, che è ancora nella fase embrionale ma che speriamo al più presto possa arrivare alla luce. Una serie di firma underground da non perdere, scopo dell'iniziativa però è quello di offrire una vera e propria vetrina e uno spazio di visibilità a registi emergenti e autori dallo sguardo innovativo. Con quale criterio sono stati poi selezionati i lavori? Sì, diciamo che gli autori di cortometraggi ovviamente hanno poche possibilità di trovare uno spazio in cui presentare i loro lavori perché normalmente nella programmazione ordinaria delle sale cinematografiche non c'è spazio per i cortometraggi, per questa tipologia di cinema e quindi sono i festival che fanno vivere questi prodotti che sono molto importanti perché sono una palestra per chi sente di avere un talento e di volerlo esprimere. Ovviamente prima di arrivare, di fare il grande balzo, di arrivare alla realizzazione di un lungometraggio c'è bisogno di mettersi alla prova anche per trovare dei finanziamenti, dei produttori disposti a investire su di te e quindi per questo motivo abbiamo deciso da quattro edizioni di offrire questa opportunità agli autori di questi cortometraggi. Diciamo che svolgendosi all'inizio dell'anno in qualche modo proviamo a fare una raccolta del meglio delle produzioni dell'anno appena concluso e quindi girando per festival nel corso della stagione identifichiamo le opere più interessanti, più stimolanti per il nostro pubblico. Il tutto è stato coaduvato da una giuria tecnica presieduta dal regista Luca Miniero che ha firmato poi tanti grandi successi. Ricordiamolo, com'è nata questa sinergia? Sì, noi proprio per rispetto nei confronti dei partecipanti alla rassegna ci teniamo molto a mettere a disposizione i lavori che presentiamo di una giuria altamente qualificata e professionale e quindi la giuria è presieduta da Luca Miniero che è un regista che non ha bisogno di presentazioni ultimamente abbiamo ammirato il suo adattamento di Napoli Milionara da Edoardo il regista di Benvenuti al Sud solo per citare qualche titolo ma non c'è soltanto lui ovviamente abbiamo Gian Felice Imparato che è un attore teatrale e cinematografico dalla lunghissima carriera abbiamo Alberto Castellano che è il decano dei critici cinematografici italiani abbiamo Enrico Bongiorno giornalista del mattino abbiamo la casting director Adele Gallo quindi come dire sono dei professionisti che hanno capito lo spirito dell'iniziativa e hanno accettato di buon grado di guardare i 16 cortometraggi finalisti di questa edizione Ricordiamo che anche quest'anno sarà segnato il premio al miglior cortometraggio al miglior attore, alla migliore attrice intitolato alla memoria di Cetti Sommella ma qual è il filo che lega questi film? Non c'è un filo, devo dire proprio la verità cioè nel senso che le tematiche sono libere, sono le più varie sono disparate diciamo che la novità di quest'anno è l'introduzione di un ulteriore premio perché oltre al premio al miglior cortometraggio, al miglior attore, alla migliore attrice dedicato alla memoria di Cetti Sommella che insieme a Nando Paone è stata la fondatrice del teatro Sala Moliere grazie alla quale si può dire che sia nata questa manifestazione da quest'anno abbiamo introdotto anche il premio al miglior montaggio dedicato alla memoria di Ramondo Cruciani che è stato un grande montatore del cinema italiano ha avuto una lunga collaborazione con Ettore Scola e ha firmato il montaggio di film iconici come C'eravamo tanto amati o anche Ballando Ballando che ha collaborato con i più importanti registi italiani che abbiamo avuto appunto nella nostra storia del cinema infatti ci sembrava giusto onorare la memoria di Ramondo Cruciani che è di recente scomparso con un premio dedicato al montaggio che è uno degli aspetti del linguaggio cinematografico molto spesso sottovalutato mentre invece quando si parla di cinema senza il montaggio il cinema non esisterebbe ed è una tipologia di linguaggio che in altre arti come la letteratura, la poesia, la pittura non esiste ovviamente Si prospetta quindi una giornata veramente particolare? Eh sì, citando appunto Ettore Scola stasera avremo la terza serata di proiezioni con i quattro cortometraggi in programma poi la prossima settimana ci sarà l'ultima tornata di cortometraggio e poi il 7 febbraio la cerimonia finale di premiazione Che cosa rappresenta nel panorama culturale della nostra regione questa rassegna? Devo dire che noi viviamo in Campania che è una regione fortunatamente che ha un rapporto molto importante con il cinema esistono tanti festival e Cinemagma vuole essere una piccola iniziativa un piccolo tassello che arricchisce l'offerta culturale in un territorio come quello di Pozzuoli dove purtroppo da tanti anni gli spazi a disposizione del cinema, del teatro sono ridottissimi quindi onore a Nando Paone, al Teatro Sala Moliere a tutti i suoi collaboratori per aver aperto le porte del suo teatro non solo appunto al teatro ma anche al cinema Assolutamente sì, noi abbiamo anche avuto ospite a Mattina Live Cosa si augura per il futuro di questa manifestazione? Di crescere ma fino a un certo punto perché io credo che la bellezza di Cinemagma sia proprio il fatto di essere una rassegna piccola a dimensione d'uomo in uno spazio molto raccolto la capienza è di 70-80 persone quindi c'è un contatto diretto con il pubblico e quello che abbiamo sperimentato nelle scorse settimane anche nelle edizioni passate in verità è che gli autori sono molto felici di avere questo contatto diretto con il pubblico perché in genere quando si va nei grandi festival c'è sempre una barriera una distanza tra i registi e il pubblico ed è un po' più freddo più asettico In questo caso c'è una posfera più genuina forse, no? Sì, anche perché al termine delle quattro proiezioni c'è anche un Q&A un'intervista con gli ospiti una chiacchierata con il pubblico il pubblico che tra l'altro è direttamente coinvolto perché vota c'è anche il premio del pubblico abbiamo oltre ai premi ufficiali e quindi è un qualcosa diciamo così di estremamente caldo insomma nello stile delle cose che piace fare a noi tra l'altro prima di iniziare la proiezione abbiamo anche un drink di benvenuto a base di pizzette, un bicchiere di vino il tutto gratis e quindi ricordiamo fino al 7 febbraio al Teatro Sala Moliere di Pozzuoli con la quarta edizione di Cinemagma noi la ringraziamo e quindi ringraziamo ancora una volta lo storico del cinema Giuseppe Borone per essere stato in nostra compagnia stamattina a Mattina Live e noi ci vediamo tra pochissimo dopo un piccolo break rimanete con noi Grazie 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 a tutti.